Un cane azzanna un ladro entrato in casa e questo denuncia il proprietario chiedendo il risarcimento dei danni. Non vi lasciate influenzare da queste notizie, tra l'altro mi avete taggato in tanti di recente, ma si tratta di un fatto abbastanza vecchio. E in generale nessuno vieta al ladro o chi che sia di denunciare qualcun altro. La denuncia alla querela sono quattro righe scritte su un foglio di carta portato all'autorità giudiziaria, ma un conto è denunciare, altro conto è dimostrare la fondatezza della propria pretesa punitoria. Non so se è chiaro e io ho già detto che non si può dare una risposta generalizzata a vicende come questa. Tra l'altro non abbiamo materiale giurisprudenziale a cui fare riferimento, ma che comunque al di là della legittima difesa domiciliare in casi simili si può invocare il caso fortuito, avendo il cane comunque risposto ad un'azione del tutto imprevista ed imprevedibile del ladro. E' il diritto penale. Che st'è?